Domenica 31 marzo il popolo ucraino è chiamato alle urne per eleggere il nuovo presidente, passaggio cruciale per comprendere in quale direzione si muoverà il paese. A poche settimane dal voto regna l'incertezza con oltre 30 candidati registrati. Stremati da cinque anni di guerra, gli ucraini nei sondaggi mettono solo al secondo posto il presidente uscente Petro Poroshenko. Eletto nel 2014 spesso in prima linea con indosso tute mimetiche, Poroshenko è accreditato come oppositore della Russia. Tuttavia molti elettori dicono che non è riuscito a far fronte alla corruzione e alla povertà, anzi avallando l'aumento dei prezzi del gas con conseguente rabbia tra i consumatori. Da notare che solo il 9% degli ucraini ha fiducia nel proprio governo, a fronte di una media del 56% nel 2018 ed appena il 12% crede nella limpidezza dei procedimenti elettorali. Secondo i sondaggi gli ucraini sembrano preferire un attore comico senza esperienza politica. Il favorito del primo turno è infatti Volodymyr Zelensky, che in una popolare serie tv interpreta, manco a dirlo, un onesto presidente che supera in astuzia antagonisti e detrattori. Zelensky passerebbe senza problemi al ballottaggio, superando agevolmente i principali sfidanti con grosse chance di spuntarla anche nella fase finale. Ma se i suoi consensi sono il frutto dell'incapacità del governo di intraprendere riforme, la vaghezza dalla sua campagna elettorale non consente previsioni circa il suo futuro politico. Anche l'ex primo ministro Yulia Timoshenko è in corsa e potrebbe agguantare il secondo turno a spese di Poroshenko. Gli ucraini devono decidere se sono stanchi dei politici esistenti oppure diranno che è meglio andare col diavolo conosciuto, ha detto la Timoshenko, che ha descritto l'aumento del gas come un genocidio.